All'Istituto De Bellis di Castellana Grotta è stata avviata la sperimentazione di un farmaco per la neoplasia del tratto gastroenterico. Alba di Palo. Un farmaco sperimentale per trattare una neoplasia del tratto gastroenterico è in fase di sperimentazione nell'Istituto di ricerca e cura De Bellis di Castellana Grotta in provincia di Bari, che è il primo centro in Puglia a essere stato autorizzato all'esecuzione di studi clinici di fase 1. Lo studio consisterà nel valutare l'efficacia e la tollerabilità del farmaco che, somministrato in associazione a un comune chemioterapico, ne aumenta l'efficacia agendo direttamente sul sistema immunitario, un trattamento avviato dopo il via libera dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Per poter effettuare questo tipo di trattamento ci sono stati numerosi controlli da parte dell'Agenzia Italiana per il Farmaco, l'AIFA, che ha quindi certificato la nostra capacità di trattare il paziente e tutto quello che c'è dietro, un semplice, tra virgolette, semplice trattamento, è stato quindi certificato secondo quelli che sono i parametri di assoluta eccellenza e assoluta qualità. Poter quindi presentarsi al paziente sapendo che qualcuno ha controllato come tutti questi percorsi avvengano e avvengano nel modo corretto ci dà da un lato l'orgoglio di poter essere sempre più vicini alle aspettative e alle esigenze del paziente e dall'altro per il paziente rappresenta una sorta di certificato di bollino di qualità per la struttura e naturalmente questo non può che essere motivo di grande soddisfazione per tutti quelli che lavorano qua dentro ma direi un po' per tutta la nostra regione. La sperimentazione esprime la possibilità di modernizzare la rete ospedaliera, portare salute e servizi nei territori e incrementare e incrociare sempre più i bisogni di salute dei pugliesi.